Quindi passati sul traguardo alla conclusione del dodicegiumo passaggio, Patrese Senna a 4 secondi, adesso Terzo Warwick a 20 secondi da Patrese e Larini a 23 secondi, mentre c'è un'altra uscita di strada e ci pare che sia anche questa una Minardi, quella di Sala, però aspettiamo, ecco vediamo intanto, confermasi, c'è una violenza, l'urto piuttosto violento, il pilota comunque avevamo visto che aveva agitato il braccio e stava uscendo dall'abitacolo, speriamo che la regia ci riproponga le immagini per sapere come stanno le cose.